Finisce 75-71 per Sansevero, una partita dalle mille emozioni. 32 di Leonzio da un lato, dall'altro Stanic e Ruggero determinanti. Parte forte Sansevero, poi Pescara rientra prima dell'intervallo lungo con Leonzio ed è un tourbillon di emozioni infinite per una partita punto a punto, Raiola, probabilmente la miglior partita dell'anno di Pescara. Guarda, io non posso far altro che ringraziare i ragazzi per quello che hanno messo in campo, per la prestazione che hanno fatto, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto nell'arco di questi 40 minuti. È una partita difficile, l'abbiamo affrontata senza poti, ho chiesto ai ragazzi di dare tutto quello che avevano, forse hanno messo ancora qualcosa in più di quello che avevano. Sono contentissimo, per noi questa partita è un punto di partenza, per me non è una sconfitta, dobbiamo solo prendere tutto il bene che c'è da questa partita qui. La partita è interpretata molto bene, contro Sansevero che stava all'inizio tirando con percentuali un po' come Chieti, alla fine siete stati molto bravi a rientrare in partita con una grande intensità, no? La parola chiave è intensità. Guarda, io ho chiesto ai ragazzi di giocare 40 minuti di grande intensità, ce l'abbiamo messa, loro sono partiti con buone percentuali, magari abbiamo un pizzico di sfortuna oppure sono bravigliati sempre con noi, ma naturalmente Sansevero è una grande squadra, siamo stati ancora più bravi a rimanere attacchiate la partita, siamo anche andati avanti. Ci sono anche dei piccoli episodi come un tiro da tre che noi sbagliamo aperto e loro magari lo mettono all'ultimo secondo, le 24, da 9 metri di tabellone. Magari questi episodi possono anche cambiare una partita, però alla fine hanno vinto loro, il risultato del campo è da accettare, ma noi, come ho detto prima, dobbiamo ripartire da questa partita. L'abbiamo definita, Giorgio, la partita dalle mille emozioni, intensità altissima per 40 minuti, complimenti. No, bella veramente, complimenti a tutte e due le squadre, credo che oggi sia stata veramente una gran bella partita, la seconda contro la prima perché giocavano in casa Pescara, credo che sia stata veramente una bella dara, cioè due squadre che hanno dimostrato quello che hanno fatto fino a questo percorso. Complimenti a Pescara perché ha giocato una partita di una solidità incredibile, complimenti a Leonzio perché è stato un giocatore oggi, secondo me, stratosferico, nei momenti importanti ha fatto delle cose pazzesche, quindi veramente complimenti, complimenti anche a noi perché siamo stati solidi, duri, siamo stati sempre sul pezzo, abbiamo gestito delle situazioni di falli con i lunghi, ma siamo stati sempre lì, abbiamo avuto due passaggi a vuoto in cui Pescara è stata bravissima a rientrare e ha riportato la partita sul punteggio di equilibrio. Veramente una bella partita, secondo me non era una partita di regular season. Se ti dovessi chiedere, per chiudere, Giorgio, dove siete stati un po' più bravi di Pescara, cosa mi rispondi? La qualità di Stanic e Ruggero, a mio giudizio, è stata determinante alla fine. Sì, siamo stati bravi, secondo me, nei momenti importanti ad andare dove dovevamo andare, cioè sui cambi andavamo spalle a canestro con il nostro lungo, sui pick and roll per aprire il campo dove sono nati due tiri da tre punti e siamo stati bravi lì, anche perché dopo avevamo il bilanciamento, il giusto bilanciamento nella copertura del contropiede. Però, ti ripeto, una partita che si è decisa sui dettagli e veramente voglio fare i complimenti a tutte e due le squadre.